Il bambino ha sempre paura, anche se si è tagliato un dito semplicemente, e va rassicurato. Fermi della nostra convinzione che un comfort e un'ospitalità migliore negli ambienti ospedalieri sicuramente rassicura il bambino, lo aiuta ad affrontare meglio le cure. E noi diciamo che quando un bambino si sente protetto, forse diventerà un adulto anche migliore. Abbiamo fatto questo appello a tutta la comunità perché il progetto è molto ambizioso. Sforiamo con presa IVA, che noi paghiamo al 22%, circa 160.000 euro. E il Marina di Pescara, col porto turistico e tutti gli altri organizzatori, hanno inteso creare questo bellissimo evento delle cover band con cena più spettacolo a favore dell'associazione. Sarà una serata sicuramente all'insegno del divertimento, dell'allegria, della nostalgia nei confronti di questi grandissimi personaggi della musica italiana, ma soprattutto sarà una serata per raccogliere fondi per gli arrediti del reparto di pediatria. Sicuramente con Adricesta siamo fianco a fianco in questa battaglia. Invitiamo tutti i pescaresi, tutti quelli che vorranno unirsi a noi per questa iniziativa di sostegno sabato 9 dicembre al porto turistico di Pescara con E Cantava le Canzoni. Seguirà poi sabato successivo, 16 dicembre, la seconda edizione della Festa degli Auguri. Proprio questa mattina ho avuto la conferma che anche la prima delle finaliste delle donne di tale quale show, Valeria Altobelli, sarà con noi insieme a tutti i grandi artisti che già hanno dato la loro adizione. Parliamo di Manuel Aspi, di finalista anche di The Voice e del programma Amici di Maria De Filippi. Parliamo dei Ditelo Voi, un trio comico forte degli ultimi successi di Made in Sud sul Rai 2 e anche di Colorado, di Manuel Casella che da anni, oramai da più di 11 anni al nostro fianco nelle nostre iniziative e di Dario Ricchizi che già l'anno scorso ha partecipato alla prima edizione della Festa degli Auguri del Tribunale della Procura della Repubblica di Pescara. Quest'anno abbiamo ripetuto l'esperienza volendola fare più in grande perché l'anno scorso è stata realizzata all'interno del Tribunale, quest'anno invece al Circus. Noi riteniamo che sia un fatto importante, il Tribunale è qualcosa che vive all'interno della città ed è giusto che partecipi in qualche modo dove è possibile, è necessario e opportuno farlo. Per cui noi riteniamo che questa sia una manifestazione importantissima, in cui il ricavato viene destinato alla pediatria.